Ciao a tutti ragazzi, bentornati come sempre qui sul canale di The Reviewver, il vostro ragno recensore. Sigla! Ciao a tutti ragazzi, come sempre siamo qui oggi per parlare di un altro personaggio della Marvel. Oggi parleremo di Thor. Vediamo quindi la creazione del personaggio. Pochi mesi dopo la creazione di Hulk, Stelli ha dichiarato di essersi chiesto come fai a rendere qualcuno più forte della persona più forte? Alla fine l'ho capito, non renderlo umano. Rendilo un dio. Ho deciso che i lettori erano già abbastanza familiari con gli dei greci e romani. Poteva essere divertente quindi approfondire le vecchie leggende nonrene. Inoltre ho immaginato che le divinità nordiche somigliassero ai vichinghi del passato con le barbe fluenti, gli elmi con le corna e le clave da battaglia. Così ho scelto Thor a intitolare la testata. Bellissime ragazzi queste frasi uscite dalla bocca del grande, unico e inimitabile Stelli. La nascita editoriale di Thor dunque risale all'agosto del 1962, quando al numero 83 di Journey in Mystery, Stelli e Jack Kirby prendono a prestito dalla mitologia scandinava il dio del tuono rendendolo l'eroe più potente dell'universo Marvel. Ma torniamo di nuovo alle parole di Stelli. Dopo aver scritto una base per la storia e i personaggi che avevo in mente, ho chiesto a mio fratello Larry di scrivere la trama perché io non ne avevo il tempo e fu naturale per me assegnare le matite a Jack Kirby. Nel 1985 Kirby ha infatti dichiarato Avevo realizzato una versione di Thor per la DC negli anni 50 prima di realizzarlo per la Marvel. Ho creato Thor alla Marvel perché sono sempre stato innamorato delle sue leggende mentre in un'intervista pubblicata nel 1997 ha affermato Conoscevo molto bene le leggende di Thor ma volevo modernizzarle. Sentivo che poteva essere qualcosa di nuovo per i fumetti, prendere le vecchie leggende e modernizzarle. Passiamo quindi ora a raccontare la storia di Thor. Nasce ad Asgard dal dio Odino e dallo spirito della terra Jord, avatar di Gea, così che i suoi poteri non derivassero esclusivamente dalla patria degli dèi celesti. Thor viene cresciuto tra gli asgardiani nella convinzione che Frigga, la legittima sposa del padre, fosse anche sua madre biologica. Trascorre la fanciullezza nelle avventure più disparate insieme all'invidioso fratello adottivo Loki e gli amici Balder, Fandral, Ogun, Volstagg e il suo primo amore Lady Sif. Ben presto Thor diviene il miglior guerriero di Asgard, tanto abile da riuscire a brandire il martello incantato Mjolnir, il terribile martello forgiato dai Trolls con il magico metallo Uru. Tutto ciò porta tuttavia il principe asgardiano a sviluppare un carattere arrogante, impulsivo e quasi guerrafondaio, motivo per il quale Odino decide di insegnargli il valore dell'umiltà esiliandolo sulla terra, nel corpo del giovane, gracile, mite e zoppo studente di medicina Donald Blake. Dopo dieci anni, apre una clinica privata a New York, divenendo comunque un brillante dottore noto per le sue virtù di perseveranza e compassione. Dopo circa dieci anni, quindi Odino, ritenendo che suo figlio abbia ormai imparato cosa fosse l'umiltà, fa in modo che decida di recarsi in vacanza in Norvegia, dove per sventare un'invasione aliena gli fa ritrovare Mjolnir e la sua passata potenza. Successivamente, Thor e il suo alter ego Donald Blake iniziano una doppia vita prendendosi cura dei malati nella loro clinica privata, insieme all'infermiera Jane Foster, amata da entrambi, e ovviamente difendendo la terra dal male. Affrontando i principali avversari, che poi esamineremo nella sezione dedicata ai nemici, in una battaglia particolare contro il suo arcinemico nonché fratello adottivo Loki, che in un'occasione per sconfiggerlo assume il controllo di Hulk facendolo scontrare con lui, poco prima che la situazione degeneri, arrivano in soccorso dell'eroe asgardiano Iron Man, Ant-Man e Wasp, grazie ai quali riesce a liberare Hulk mettendo in fuga il dio delle malefatte e creare, visto l'ottimo lavoro, una nuova squadra chiamata I Vendicatori. Innamoratosi di Jane Foster e della vita sulla Terra, Thor si rifiuta di fare ritorno ad Asgard anche dopo che Odino sancisce la fine del suo esilio, cosa che crea numerosi attriti tra padre e figlio. Nel frattempo, a causa delle macchinazioni di Loki, l'eroe si vede trascinato in una serie di avventure epiche al fianco di Odino e Balder o addirittura provare la sua innocenza da una falsa accusa davanti al Tribunare degli Dei, eventi che lo costringono a prendersi un lungo periodo d'assenza dai Vendicatori. Tempo dopo, Odino acconsente a trasformare Jane Foster in una dea per sottoporla a una prova e stabilire se sia degna del figlio, ma dopo aver fallito, l'infermiera viene privata dei poteri e rispedita sulla Terra senza alcun ricordo di Thor, il quale in seguito ricomincia la sua storica relazione con Sif. Ricongiuntosi ai vecchi compagni di battaglia, Thor si dedica alla protezione di Asgard. In seguito, Thor, detto il tonante, affronta numerose battaglie al fianco di Ercole con il quale stringe un forte legame di amicizia e si trova a combattere delle battaglie anche a fianco degli Eterni. In un evento successivo in cui, al termine della quarta coorte dei Celestiali giunti sul pianeta per giudicare la razza umana, Thor scopre la vera identità di sua madre e dunque anche la ragione del profondo attaccamento alla Terra. Esplorando poi una navicella aliena, su richiesta di Nick Fury, Thor si imbatte in Beta Ray Bill, un alieno corbinita che si dimostra degno di impugnare Mjolnir, ragion per cui viene insegnito da Odino dei medesimi poteri del figlio ricevendo il martello incantato Stormbreaker, la cui creazione cancella tuttavia Donald Blake dall'esistenza, cosa che costringe Thor a crearsi una nuova identità segreta camuffandosi da mortale e spacciandosi per il lavoratore edile Sigurd Gerson. Bill diviene successivamente uno dei principali alleati di Thor e di Asgard assistendo il regno nella lunga guerra con le schiere del demone Surtur, al termine della quale, pur riuscendo a sconfiggere il nemico, Odino muore, lasciando al figlio il gravoso compito di impedire che il regno sprofondi nel caos, a causa delle macchinazioni di Loki o di Ela, che arriva a maledire Thor rendendo le sue ossa fragili come vetro e privandolo della sua possibilità di morire, cosa che gli provoca numerosi danni lasciandolo in uno stato di perenne agonia, finché il suo corpo viene completamente polverizzato dopo uno scontro col serpente di Midgard. Assunto poi il controllo del distruttore, Thor riesce a costringere Ela ad annullare l'incantesimo ripristinando la sua forma originaria, dopodiché affronta nuovamente i Celestiali e riesce a ritrovare Odino, restituendo a Asgard il suo legittimo sovrano. Nel corso di tale periodo, Thor, costretta a uccidere Loki, viene esiliato da Odino assegnando il suo ruolo e i suoi poteri al mortale Eric Masterson, con cui per un certo periodo il dio del tuono è stato fuso. In seguito però si scopre che Loki è ancora vivo e quindi Odino richiama Thor dall'esilio, portandolo a ricoprire il ruolo di protettore dei Nove Mondi. Poco tempo dopo però, a causa delle numerose assunzioni di identità mortali, Thor ha un crollo nervoso e cade vittima della follia del guerriero, da cui si riprende solo grazie al padre, Adam Warlock e al Dottor Strange. In seguito alla battaglia con Oslaut, Thor muore assieme ai molti Vendicatori e ai Fantastici Quattro, ma il semi onnipotente Franklin Richard li resuscita in un universo tascabile di sua creazione, da cui fanno ritorno poi all'universo originario. Scoperto che in sua assenza gli dei oscuri hanno catturato la sua gente, il dio del tuono corre il loro soccorso insieme a Ercole, ma nel corso di tale impresa viene ucciso dal distruttore e per salvarlo uno dei corvi di Odino unisce la sua forza vitale a quella di Jake Olson, un giovane paramedico a sua volta deceduto nello scontro. L'unione vitale tra i due ha però breve durata, in quanto poco dopo Odino li separa, di modo che Olson possa riprendere in mano la propria vita, mentre Thor partecipa all'ennesima guerra tra Asgard e i demoni del fuoco. In seguito a degli eventi che potrete sicuramente scoprire leggendo i fumetti, Loki ritrova lo stampo di Mjolnir, il nucleo di una stella, e se ne serve per costruire innumerevoli altri martelli magici con cui armare un esercito per marciare su Asgard e dare inizio a Ragnarok. I nove regni vengono conquistati uno a uno dall'esercito di Loki. Thor entra in possesso del potere di Odino e della sua saggezza, grazie alla quale capisce che Ragnarok non è un unico evento apocalittico, ma un ciclo creato da dei superiori attraverso il quale essi si nutrono dell'energia di Asgard. Thor affronta l'odiato fratello adottivo sulla cima dell'albero della vita e lo decapita. Poi si erge contro coloro che siedono nell'ombra ponendo fine alla maledizione del Ragnarok. Rendendosi conto che tale è sempre stato il piano di Odino, mentre il crepuscolo delle divinità si avvia al compimento, Thor rimane sospeso nel vuoto in una sorta di ibernazione. Anni dopo, Mjolnir viene rinvenuto sul suolo statunitense e posto sotto la sorveglianza degli United States Army. Ma quando il dottor Destino irrompe nella struttura tentando, senza successo di rubarlo, nella confusione che si genera il martello viene trafugato di nascosto da Donald Blake. Nel frattempo divenuto un'entità a sé stante. Grazie all'artefatto, il medico riesce a raggiungere Thor nel vuoto risvegliandolo dal suo stato di sospensione e convincendolo a unirsi nuovamente a lui e a tornare sulla Terra, per resuscitare tutti gli dèi del Phantom rinati sotto spoglie mortali, eccetto Odino rimasto in un limbo per prevenire il ritorno di Surtur. Ripristinato in seguito il regno di Asgard, a Broxton, Oklahoma, Thor viene a sapere degli eventi della guerra civile dei superumani e del ruolo giocatovi da Iron Man. Infuriatosi, non appena questi lo avvicina per chiedergli di registrarsi a sua volta, Thor minaccia di considerare al pari di un nemico chiunque si avvicini al suo regno senza permesso, ragione per la quale il governo si vede costretto a riconoscere ad Asgard lo stato di ambasciata. Solo molto tempo dopo, il Dio del Tuono e Capitan America si riconciliano definitivamente con Iron Man. Nel frattempo, nel corso dell'invasione segreta degli Skrull, i piani di Loki inducono Balder a spostare il regno di Asgard dall'Oklahoma alla Lafteria, terra dominata dal Dottor Destino. Pur compreso l'inganno, Thor sconfigge gli avversari, ma non riesce ad impedire che diversi Asgardiani minori siano uccisi da destino. Successivamente a tutti gli eventi descritti finora, vengono scritti Assedio e Fear Itself. Nel crossover Assedio, accecato dalla sua follia, Norman Osborn, il criminale che ha preso il controllo della comunità supereroica americana, assedia Asgard, la dimora degli dei nordici sulla Terra, ed è guerra. Da un lato le forze di Osborn, dall'altro finalmente riuniti i Vendicatori con in testa Thor, Capitan America e Iron Man. Con il crossover, invece, Fear Itself, la storia vede la figlia del Teschio Rosso liberare dalla sua millenaria prigione il terribile Serpente, il dio della paura asgardiano Eterna Nemesi di Odino. La sua missione è quella di soggiogare tutta la Terra con la morsa della paura, per poi attaccare Asgard e Odino stesso, servendosi di un gruppo di accoliti, i Valorosi, che ricevono dei martelli mistici con i quali possono scatenarne la paura su tutto il pianeta. Raccontati quindi quasi 50 anni di storia, arrivati a questo punto, Jason Aaron si impossessa della narrazione di Thor, La narrazione si svolge su più piani temporali, uno quello di Thor Vendicatore nel tempo presente, il secondo nel Medioevo, quando Thor era giovane e non ancora degno di Mjolnir, il terzo nel futuro remoto, quando Thor è l'ultimo dio di Asgard, senza un occhio e con un braccio mancante, rimpiazzato da quello del distruttore. Il dopo Jason Aaron ci porta tra le braccia di Jane Foster, la potente Thor. Ebbene sì, una Thor donna. Bene, siamo pronti quindi a parlare dei suoi nemici. Suo cerrimo nemico da sempre è il fratellastro Loki, dio dell'inganno, colui che aspira da sempre al trono di Asgard e che sarà l'artefice del Ragnarok, la grande battaglia finale in cui periranno tutti gli dei nordici. Vi sono poi anche Surtur, il dio del fuoco, che cerca di scatenare il Ragnarok forgiando la spada del crepuscolo. Poi c'è Ela, la Dea della Morte, Crusher Krill, The Absorbing Man e il distruttore, il primo potenziato e il secondo creato da Loki. Thor si è anche opposto ai Celestiali, potentissimi dei spaziali che giudicano i vari popoli della galassia, distruggendoli nel caso si dimostrassero indegni. Una menzione particolare va poi ai patetici Cronan, che nel tentativo di conquistare la Terra si imbattono in Donald Blake, che nella fuga trova Mjolnir e si trasforma per la prima volta in Thor. Siamo pronti ora a parlare invece dei suoi amici. Tutti gli dei di Asgard possono definirsi amici di Thor. Jane Foster, trasformata da Odino in Lady Sif, la formidabile guerriera che tante volte ha accompagnato il Dio del Tuono in battaglia. Balder, l'impavido destinato a sopravvivere al Ragnarok per continuare la stirpe degli dèi. Fandral, l'impetuoso. Ogun, il fosco. E Volstag, il voluminoso. Sono tre guerrieri compagni di bevute e battaglie. Poi c'è Eindal, il guardiano di Bifrost, il ponte di arcobaleno che collega Asgard a Midgard. Beta Ray Bill, ultimo supersite di un misterioso popolo alieno, l'unico ad essere riuscito a impadronirsi del Mjolnir. Infine c'è Midgard. Cioè la Terra, i suoi amici sono innanzitutto i Vendicatori, con i membri fondatori, addirittura condiviso le varie identità segrete. E ovviamente Nick Fury. Arrivati quindi al termine della nostra recensione, vi posso consigliare la lettura per iniziare a leggere le storie di Thor. Ovviamente vi consiglio Io sono Thor, un volume della Panini Comics, piuttosto corposo, che include alcune delle storie di Thor più rappresentative e costituisce un ottimo punto di partenza quindi per coloro che ancora non conoscono il personaggio. Nello stesso tempo è anche un entusiasmante viaggio nella lunga e gloriosa esistenza della Marvel. Il volume si apre con il leggendario numero 83 di Journey into Mystery, che costituì l'esordio di Thor, ovviamente ad opera di Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby. Le storie che si susseguono vedono poi numerosi artisti del fumetto, come Len Wayne, Walt Simonson, Tom DeFalco, Ron Franz, Mike Deodato Jr., Warren Ellis, Dan Jurgens, John Romita Jr., Marco Giurgevich, Oliver Kuypel, Russell Dauterman ed altri autori che rendono quindi questo volume strepitoso. Un volume che dovete assolutamente acquistare se volete leggere le storie più rappresentative su Thor per poi iniziare una ricerca personale che vi porterà quindi a scoprire le innumerevoli storie create sul Dio del Tuono. Bene ragazzi, anche per questo personaggio della Marvel è tutto. Spero di essere stato chiaro e d'aiuto per i neofiti lettori che si vogliono cimentare nella lettura del Dio del Tuono. Il video termina qui, mettete un like se vi è piaciuta la video recensione, seguitemi su Instagram, sulla pagina Facebook, iscrivetevi al canale YouTube ovviamente, ci vediamo al prossimo video, sigla!